Buonasera, ben ritrovato in un nuovo appuntamento con Bocce Forum, salutiamo anzi e risalutiamo perché è tornato a trovarci Giuseppe Gaio, segretario del Comitato di Legnano Buonasera Giuseppe, partiamo con un bilancio e anche un riassunto di quello che è successo da gennaio fino ad oggi e il 2015 non è ancora finito, quindi poi parleremo anche di quello che sarà prima però di lasciarti la parola, volevo far vedere questo bel gagliardetto del Comitato di Legnano eccolo qui, che penso e credo, ma lo chiedo a Giuseppe, sia un gagliardetto storico Da quanto tempo è che, rinfrescami nella memoria che c'è, il Comitato di Legnano comunque Parecchi anni, io ho cominciato a 15 anni a giocare a Bocce, ne ho 58, quindi si torna indietro parecchi anni comunque è sempre stato un ottimo comitato, carico di società sportive Adesso purtroppo si va a ritirare, le persone aumentano d'età Torniamo sul campo dei giovani dietro, ce ne sono poco o niente E parleremo poi anche, perché so che tu lavori molto anche con i bambini eccetera ma torniamo appunto alla domanda che ti ho fatto prima Ma come è andato questa metà possiamo dire di 2015? Niente, l'inizio dell'anno è andato benissimo perché come Comitato di Legnano abbiamo messo in calendario 19 gare totali con 12 società Ne abbiamo in programma 13 individuali, 6 in coppia Una nazionale che è stata fatta del circuito FIB dalla bocciofila Lilla a mese di marzo E c'è una nazionale normale il 10 di ottobre dalla bocciofila Malvestiti di Legnano Poi abbiamo fatto i campionati regionali delle 4 categorie con 3 formazioni di A, 3 di B, 3 di C e 2 di D Abbiamo fatto un secondo interna con la società Malvestiti E per la prima volta abbiamo messo sul tavolo la prima Coppa a Legnano Un campionato a squadre Come è nata questa idea? Perché sentendo sempre gare promozionali, poi c'è gente che si fanno poche gare, c'è poca attenzione Allora con il Presidente Caimi e il Vice Presidente Morani abbiamo messo sul tavolo Come un campionato di calcio Come fosse la Coppa Italia di calcio 12 società che si incontrano tutte assieme A inseguimento a 30 Fai 10 punti individuali, al 20 in coppia, 30 interna Alla fine verranno conteggiati i migliori punteggi Con la differenza scarto, gli incontri diretti E si farà una classifica, ci sarà un primo e un secondo Questo in che arco di tempo? Da gennaio, dovevamo chiuderlo a novembre con l'ultimo incontro Sta andando bene, è un'iniziativa che ha avuto successo E i primi 2-3 incontri no, adesso siamo all'ottavo incontro La gente c'è, anzi piace partecipare perché è una cosa nuova E si va a giocare in diverse bocciofle In tutte le bocciofle del Legnanese E questa è una bella iniziativa La novità che poi le novità fanno sempre bene in questo mondo Per cercare anche di rinnovare Bisogna mettere sempre qualcosa di nuovo sul piatto Perché se si vive con gli allori non fai nulla Se ci si siede è finita Esatto Poi con questo ci sono le feste dello sport a Legnano Io sono stato invitato il 12 di luglio Parco Castello di Legnano Su due piste da gioco Per avvicinare i bambini al gioco bocce Il mese scorso l'ho fatto a Pregnana Sempre tramite il comune Un po' di affluenza di bambini ci sono stati Adesso spero che domenica 12 sia bello Avere pieno di bambini Vedendo tempo che adesso speriamo di sì Io me lo auguro tanto E anche qui hai detto Sei partito un po' in sordina Però qualche bambino si sta avvicinando Sì Che penso sia poi non una competizione vera o propria Sì ci sarà poi la competizione Ma più un gioco per loro Un gioco perché hai dei tappeti messi a disposizione Dalla Junior Bocce Progetto Scuola Quindi bocce di gomma o sbaglio Esatto C'è giù i tappetini con tutti i vari disegni colorati I bambini cercai di fermare le bocce all'interno dei cerchi Con diversi punteggi Insomma la cosa è bella Una piccola parte della manifestazione che è stata fatta a Milano Il mese di maggio Da Bocce Day Sì per Expo 2015 Che io c'ero E' stata una bella manifestazione Quindi alto testimone perché ci hanno parlato tutti benissimo Abbiamo mandato in onda anche un piccolo video E' stata una manifestazione proprio bella 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 E ci vorrebbero chiedo anche il tuo parere naturalmente Più manifestazioni di questo tipo Per avvicinare poi i giovani a questo sport Guarda noi siamo anche dentro nell'ambito scolastico Però da come si E' difficile E' difficile perché il bambino nell'ambito scolastico lo stacchi un'ora dalla lezione E lui è lì perché è una cosa nuova, gli piace il gioco Però poi non dà continuità Esatto Perché calcio, basket, nuoto Palavolo Poi i genitori purtroppo impegnativi sono gli appuntamenti della domenica E non ci tengono molto E questo è dispiace perché torno a ripetere Quando ho cominciato io non c'era la persona come me Che seguivi i ragazzi O come i miei collaboratori Crescevi con gente già anziana Ti prendevi le tue belle paroline Quando sbagliavi Qualche schiaffotone arrivava Però insomma Adesso invece ci sarebbero le persone Adesso che ci sono le persone adeguate per insegnare i bambini a giocare A giocare A stare in gruppo Certo Educazione e rispetto degli altri Nei compagni Sì perché come dici tu Si è prima educatore Che insegnanti Poi sportivi di bocce Esatto Solo che non attecca Cioè è un terreno molto friabile Non riesce a E parlando più in generale E nel particolare Del comitato di Legnano Il movimento giovanile è buono? Anche qui state cercando di lavorare? Allora noi stiamo cercando di impegnarci il più possibile Solo che onestamente Anche le federazioni Fanno le manifestazioni giugno-luglio I bambini finiscono le scuole Vanno in montagna Vanno al mare E si fa fatica Noi Sabato abbiamo partecipato a Brescia I campionati Coppa Italia Junior Invece di avere sei ragazzi a disposizione Siamo andati via con quattro ragazzi Abbiamo fatto lo stesso Una bella figura Perché i ragazzi hanno giocato bene Abbiamo perso Per l'amor di Dio A me interessava partecipare Il gioco per i ragazzi Divertirsi E passare una giornata in compagnia I ragazzi sono stati contenti Alla fine serata E per noi del comitato È stata una bella soddisfazione Hai parlato prima Appunto di quello che è successo In questi mesi del 2015 Ti chiedo Un successo dal punto di vista delle gare Perché ho visto categorie diverse Gare anche nazionali Poi ci sono sempre Immagino ogni sera Le gare Che è una bocciofila organizzata C'è stato anche Come dire Un seguito di pubblico Per queste gare Ecco Nelle gare nazionali Il pubblico A Legnano specialmente Sia alla Malvestiti Che alla Lilla È sempre C'è il bocciodromo Sempre pieno Nelle finali che hanno fatto Busto Garolfo C'è stato un assiduo Frequentamento di persone Pregnana Sua cinquantina di persone Le ha fatte Arluno Anche lei Ha riempito Con poco spazio Che ha di persone Che determinate gare Con personaggi Come Pavone Signorini Barilani Giocatori di livello La gente viene attratta Comunque C'è una bella affluenza Di persone Quindi il bilancio Anche del comitato In generale Fino a questo momento Mi pare di essere Più che positivo Io che sono segretario E sentendo anche Chi collabora con noi È positivo Certo che Essendo segretario Ti chiedo Da un punto di vista Organizzativo Deve essere un lavoro Veramente imponente Quante bocciofila ci sono? 12 Quindi le 12 che fanno la coppa Sono le stesse Comunque del comitato Non sono poche Anche per voi Quindi deve seguire il sorteggio Innanzitutto Iscrizioni gare Sorteggi Deve Destinare il direttore gara Agli arbitri Consegnare tutti i tabulati È una bella molla Essere presenti poi Fattivamente sul campo Almeno un paio 3-4 volte per gara Ti devi far vedere È comunque un bel impegno Questo serale Poi ci sono Le manifestazioni Della sabato Della domenica Che non ti lasciano pace Faccio una domanda Che faccio spesso A chi viene ospite Qui in studio Il comitato di Legnano Ha un sogno nel cassetto Magari qualcosa Che vuole organizzare E non è ancora riuscito a fare Ma che vorrebbe portare In quel di Legnano Allora Noi abbiamo Nel cassetto È già sulla scrivania Ah ok C'è la manifestazione Lui e lei E stiamo mettendo In campo La gestione Nei bocciodromi I premi E tutto Quello è A 99,9% Dovremmo riuscire a farlo A ottobre Fine ottobre Senza farlo apposta Sei arrivato su un altro argomento Le donne Esatto Le donne E non le donne In generale Almeno parlassimo Le donne in generale Amatorialmente Ce ne sono parecchie Perché vedo Che è un movimento Comunque che è vivo Però se Si viene a cominciare A fare A iniziare il discorso Tesserato Gare serali Gare festive Onestamente Le donne Di una certa età Non dico vecchie Neanche anziane Di una certa età Cominciano a dire Ho famiglia Il marito I figli La casa Non puoi mettergli Il coltello alla gola O obbligarle ad andare a giocare Sì perché è vero Che lo fanno divertendosi Però è pur sempre un impegno Anche giocare a bocce È un grande impegno Perché ti devi allenare Un paio di volte alla settimana Hai la sera Che vai a fare La tua partita di gara Magari la domenica Vai a fare un incontro femminile E il tempo ci vuole La giornata vola Prima di salutarti Ti chiedo ancora Il prossimo appuntamento Proprio in ordine di tempo Che I legnanesi Non possono fallire Non possono mancare A questo appuntamento E l'unico C'è la gara serale Dalla Lilla Che inizia a ottobre Individuale E ci sono giù Tanti bei giocatori Di cartellone Quindi abbiamo modo ancora Di parlarne Da qui a ottobre Sicuramente Noi ci siamo sempre E vi facciamo rivedere Eccolo qui Grazie Stefano In regia Eccolo qui Il gagliardetto Del comitato di Legnano Comitato storico Che come avete sentito Continua a lavorare Praticamente 24 ore su 24 Con il suo segretario Giuseppe Grazie Giuseppe Grazie a te Grazie a tutti E buonasera Un saluto a tutti Buonasera A Tavoccio Forum Torna come sempre Il venerdì Alle 21.15 Circa Solite 55 Il sabato In replica Solite 55 Sport Alle ore 20 Arrivederci Buonasera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti